Un rischio di danno erariale di quasi 80.000 euro per il sindaco di Matera Bennardi, componenti della prima giunta e due ex dirigenti. Alla base delle contestazioni della Corte dei Conti c'è l'assunzione nel 2020 di Pier Giuseppe Otranto. Il professore dell'Università di Bari fu assunto in qualità di portavoce con le funzioni anche di capo di gabinetto, incariche e contrattualizzati mediante una collaborazione senza sottoscrivere con lente un contratto di lavoro a tempo determinato. Va ricordato che Otranto si offrì di ricoprire l'incarico di capo di gabinetto gratuitamente. Dopo otto mesi l'avvocato e docente rassegnò le dimissioni per motivi familiari. Sul compenso complessivo di circa 100.000 euro l'anno e sul concomitante svolgimento di tali professioni, il consigliere di minoranza Casino insieme ad altri esponenti dell'opposizione presentò un'interrogazione segnalando le presunte irregolarità sull'incarico istituzionale. Con l'interrogazione dell'11 gennaio 2021, commenta oggi l'esponente di Forza Italia, avevamo evidenziato che per accomodare la questione contrattuale, permettere di inquadrare Otranto come lavoratore autonomo, il comune aveva provveduto addirittura a modificare i regolamenti, forse per consentire al professionista barese di mantenere anche gli altri impegni professionali presso l'Università di Bari e l'esercizio della professione forense, certamente incompatibile con un'assunzione al comune di Matera con contratto di natura subordinata. Le deboli giustificazioni di Bennardi, il quale all'interrogazione in consiglio comunale aveva risposto dicendo che era tutto regolare, ora franano dinanzi alle istanze della Corte dei Conti, che chiede la restituzione del maltolto, conclude Casino. Prima udienza il 16 maggio.